Il PD attacca, il sindaco Biondi risponde. Ieri i consiglieri regionali Silvio Palucci e Pierpaolo Petrucci hanno manifestato dinanzi all'ospedale Aquilano accusando la giunta di centrodestra di aver penalizzato gli ospedali dell'Aquila e Sulmona con l'accordo di programma tra Regione e Ministero della Salute e MEF che prevede che l'ospedale dell'Aquila e quello di Sulmona appunto siano esclusi da ogni intervento di qualificazione, ampliamento, rigenerazione e potenziamento. Il sindaco Pierluigi Biondi che già aveva detto la sua non sta in silenzio e replica stizzito a queste accuse ricordando una serie di questioni della giunta di centrosinistra. C'è un'amministrazione locale, quella che guido io che da sei anni si occupa quotidianamente dei problemi della sanità a differenza del PD che se ne occupa saltuariamente solamente quando ci sono interessi di altra natura rispetto alla salute pubblica. A Paolucci e Pierrucci rispondo dicendo di rispondere a qualche semplice domanda. È vero o no che la giunta di centrosinistra aveva imposto il blocco delle assunzioni con un turnover al 20%? È vero o no che la giunta di centrosinistra nel riordino della rete ospedaliera ha sdoppiato le centrali operative del 118 che inizialmente era prevista solo sull'Aquila? È vero o no che nel terzo stralcio dell'accordo 4 le risorse per l'Aquila erano solamente il 2%? È vero o no che quel piano di edilizia sanitaria è stato bloccato perché si voleva regalare la costruzione degli ospedali ai privati? È vero o no che Paolucci addirittura si era spinto a sottoscrivere una volontà di coprire eventuali rate nei confronti dei privati con il bilancio della regione e quindi con le tasse degli abruzzesi. Se rispondono pubblicamente a queste domande potremmo avviare un confronto serio e non con le chiacchiere da barra che sono abituati a fare solamente perché magari eccitati dal clima delle prossime regionali.